Grazie, saluto tutti i ministri presenti, il procuratore Salvi, il presidente Bianco, il professore Di Marzio, il presidente Caselli, saluto e ringrazio l'associazione Gordiretti, nella persona del suo presidente Prandini e del suo segretario generale Gesmundo, proprio per l'invito che mi è stato riservato, saluto tutti i presenti, tutte le autorità civili e militari. Sono molto lieto di essere presente oggi di fronte alla presentazione di un progetto che si inserisce nella lotta al caporalato, che è una battaglia che stiamo portando avanti tutti insieme all'interno delle istituzioni ed è questo il primo punto che vorrei sottolineare oggi. È stato sottolineato da più parti la presenza di diversi ministri ed è sicuramente il segnale di un'attenzione particolare nei confronti del tema che oggi si discute, ma è anche un importante segnale della trasversalità di questo tema. Noi abbiamo già sentito il ministro degli esteri, ma intervengo adesso io come ministro della giustizia e questo è un tema che riguarda senza dubbio le politiche agricole, ma riguarda l'economia sotto i due profili della tutela della leale concorrenza, riguarda la tutela del consumatore, interviene anche nella tematica relativa ai flussi migratori, interviene nella tutela del made in Italy, nella tutela della salute e conseguentemente da questo possiamo dedurre che si tratta di un argomento che ci deve vedere tutti impegnati perché non è un argomento che può essere analizzato e studiato a compartimenti stagni, necessariamente lo Stato di fronte a un tema così delicato che riguarda la tutela di diritti, la maggior parte dei quali addirittura costituzionalmente garantiti, deve presentarsi in tutta la sua trasversalità e in tutti i settori in cui opera un governo. Come Ministro della Giustizia ho fin dall'inizio del mio primo mandato condiviso con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di garantire piena attuazione alla legge 199 del 2016 agendo non solo sul piano della repressione del fenomeno ma ancora prima su quello della prevenzione. Il Ministero della Giustizia partecipa al tavolo costituito nel dicembre 2018 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per elaborare misure di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, recchiuse in un piano triennale. Sono state promosse modalità sperimentali di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, la realizzazione di forme efficienti di trasporto ai lavoratori, il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, politiche attive del lavoro di contrasto al lavoro sommerso, l'organizzazione e gestione dei flussi di mano d'opera stagionale e l'assistenza dei lavoratori stranieri. Permettetemi di ringraziare tra l'altro la magistratura e le forze dell'ordine per la loro incessante attività di lotta alla criminalità che in questo settore richiede un livello altissimo di professionalità ed esperienza. È quel livello che la nostra magistratura e le nostre forze dell'ordine hanno e di cui andiamo orgogliosi nel mondo. Nel corso del 2019, ed è su questo che mi vorrei concentrare, il Ministero della Giustizia ha lavorato per elaborare una riforma del settore agroalimentare in grado di affrontare e superare tutti i pericoli relativi proprio alla criminalità infiltrata nel settore agroalimentare. Ed è con soddisfazione che vi comunico che nel prossimo Consiglio dei Ministri è previsto e dovrebbe essere presentato il condizionale sempre d'obbligo, ma è già nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, un disegno di legge proprio in materia di illeciti agroalimentari che riprendendo in gran parte il testo varato dalla Commissione Caselli, a cui va il mio più sentito ringraziamento per quanto fatto, si muove lungo due tutele fondamentali, quella della salute pubblica e quella del consumatore e delle imprese, contro le condotte fraudolente sempre più diffuse del settore alimentare. Oltre ad ampliare la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre confische e pene accessorie, il disegno di legge stende alla materia dei reati alimentari alcuni strumenti di contrasto tipici della lotta ai crimini transnazionali, come la possibilità di effettuare operazioni sotto copertura, di quella legge 16 marzo del 2006, numero 146. Il disegno di legge, composto da 14 articoli, si propone tre obiettivi principali. Uno, riorganizzare in maniera sistematica la categoria dei reati in materia alimentare. Due, rielaborare il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari. Tre, definire organicamente per l'intero settore dei reati in materia alimentare la responsabilità delle persone giuridiche. L'intervento quindi in nove, in via principale, il codice penale e la legislazione speciale di settore, con riguardo alla tutela penale della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti, nonché ancora il codice penale con riguardo alla tutela penale dell'economia. E infine la legge in materia di responsabilità delle persone giuridiche, operando da ultimo un intervento di complessivo coordinamento con una serie di istituti sostanziali e processuali di interesse per una più utile e proficua attività di intervento nel delicato settore oggetto della riforma. Vengono introdotti nuovi reati, molti dei quali di salvaguardia anche dell'ambiente e della salute pubblica, come il disastro sanitario o l'immissione nel mercato di prodotti potenzialmente nocivi per i consumatori. A titolo di esempio voglio qui segnalare l'introduzione del reato di agropirateria, che comprende casi di contraffazione dei marchi di qualità, delle etichette, delle procedure di produzione come la simulazione del metodo biologico e dei documenti di accompagnamento. Parliamo di chi si organizza stabilmente per vendere alimenti o bevande che non hanno le qualità dichiarate circa l'origine, provenienza o quantità o che presentino indicazioni false, come per esempio i limoni IGP di Sorrento che non provengono da Sorrento. Sul versante del contrasto alle frodi agroalimentari il disegno di riforma contiene importanti norme sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto il profilo sanzionatorio sia sotto il profilo dell'estensione della sfera repressiva. Una novità molto importante che coniuga alle stanze repressive la possibilità di recuperare a fini sociali gli effetti degli illeciti è data dalla modifica dell'articolo 86 del decreto legislativo 271 dell'89. Il giudice potrà disporre l'assegnazione dei prodotti confiscati ad enti territoriali o ad altri enti pubblici, associazioni o consorsi affinché questi ultimi, successivamente alla rimozione di marchi e segni distintivi di identificazione, provvedano alla distribuzione gratuita delle derlate alle persone bisognose. L'analisi delle ripercussioni delle condotte fraudolenti in ambito agroalimentare sul tessuto economico commerciale ha fatto sì che venisse previsto un generizzato incremento delle pene, specie con riguardo alle contraffazioni degli alimenti a denominazione protetta e chiaramente in questo caso non si vuole assecondare o avallare un'idea di giustizia meramente repressiva che si muove nella logica del solo diritto penale perché come ho detto all'inizio il lavoro del Ministero della Giustizia è in tutti i tavoli in cui si fa prevenzione rispetto ai reati di cui stiamo parlando ma è evidente che va rimaccata con nettezza la certezza della pena rispetto a un fenomeno così grave. Nell'ipotesi di maggiore gravità l'ampio apparato di pene accessori può determinare sul piano soggettivo l'interdizione a ricoprire uffici direttivi delle imprese e sul piano oggettivo di vieti di accesso ad autorizzazioni, contributi pubblici, contratti con la pubblica amministrazione nonché rievoca delle autorizzazioni e chiusura delle attività. Si tratta di un progetto che esprime tutta la determinazione dello Stato nella lotta a fenomeni così gravi e permettetemi di rivendicare il fatto che sono molto lieto di parlarvene oggi perché nell'ultima occasione che avevamo avuto avevo promesso che sarei andato avanti su questo progetto, oggi ne possiamo parlare, questa settimana sarà in Consiglio dei Ministri e ci tengo a dire, anche per non destare preoccupazione in merito all'ennesima riforma Bonafede, che mi piace che questa sia la riforma Caselli perché tutto merito della Commissione Caselli rispetto alla quale i miei uffici che ringrazio hanno portato avanti un prezioso lavoro di aggiornamento di quello che era stato il progetto originario iniziato nella scorsa legislatura e chiaramente lo abbiamo fatto anche nel confronto costante con chi aveva lavorato a più precedente. è un confronto che proseguirà nel corso dell'iter di questo disegno di legge che ha visto impegnati me e l'amministra Bellanova che ringrazio, abbiamo lavorato fianco a fianco su un progetto che consideriamo ambizioso e il fatto che questo sia un progetto iniziato nella scorsa legislatura dimostra come sia l'occasione per la politica di dare un segnale di unità delle istituzioni nel momento in cui si tratta di tutelare i diritti inviolabili dei cittadini sanciti dalla nostra Costituzione e direi che sono diritti che possono essere ben sintetizzati nel titolo di oggi, legalità e dignità. Grazie